L'esercizio di solfeggio cantato di oggi prevede tutte e quattro le fasi che abbiamo esaminato finora, cioè la fase della lettura ritmica, la lettura del nome delle note, il solfeggio parlato e il solfeggio cantato. Il brano è molto semplice, sto seguendo la logica che se stavolta, che siamo a fine anno praticamente, se voi vedete che ce la fate a farlo, vuol dire che gli esercizi che abbiamo fatto prima, che erano anche un po' più difficili, a qualcosa però sono serviti, sono serviti a farci capire che qualcosa in effetti abbiamo fatto. Penso che lo indoviderete in una delle prime fasi, non ci sarà bisogno di arrivare alla quarta per capire che cos'è. E via con questo esercizio di solfeggio cantato, partiamo quindi adesso con la parte di lettura ritmica. Uno, due, tre e quattro. Uno, due. Tre e quattro. Facciamo adesso la lettura delle note, che sono Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Do, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do, Re, Sol, Do, Re, Sol, Do. Pausa da due quarti. Facciamo adesso il solfeggio vero e proprio, il solfeggio parlato, va bene? Quindi uno, due, tre e quattro. Uno, due, do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Do, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do, Re, Sol, Do, Re, Sol, Do, Re, Sol, Do, Re, Sol, Do. Facciamo adesso il solfeggio cantato Uno, due Do, re, mi, do Do, re, mi, do Mi fa sol Mi fa sol Sol, la, sol, fa, mi, do Sol, la, sol, fa, mi, do Re, sol, do Re, sol, do E come avrete capito abbiamo appena solfeggiato Fran Martino Campanaro